Voi siete la luce del mondo, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che è sopra un monte. Né se accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore Grazie. Grazie. Grazie.